oma rifrendi siamo oltre 2000 2057 eccolo lì si va su a più di 2071 eccolo la attenzione Omar guarda dove siamo la vela è quella lassù sta andando su Omar siamo a oltre 2000 sono tutti noi le pizzerne laggiù guarda laggiù laggiù è la croce di Brancoli e il Martinelli e il Caravana sopra la croce di Brancoli e io qui per ora sono al 2100 il GPS è quello buono è 2063 ma non è corretto quello lì e si vede tutto l'appennino lì in fondo Prato Fiorito e ora mi do un po' da fare a guidare attenzione Omar riprendi guarda questo è Prato Fiorito Prato Fiorito si sta andando su siamo a 2007 se notate qui con la leva macchina è 2007 e 27 e siamo sopra il Monte Mosca laggiù c'è le tre potenze lì c'è Sivillori eccolo la e noi si va verso il Rondinaio verso il Rondinaio la e siamo a 2007 di altitudine e ora cerchiamo di andare in quella zona la quello è Rondinaio quello è le tre potenze la betone pal di luce eccolo la le sellette e tutto lì va bene lì che va è sotto un cumulo e ora si cerca di andare a dritto sotto questi cumuli aiuto si sta andando si eccolo qua e si ora si tira verso il Giovo e Rondinaio eccolo la la giù c'è Castelnuovo la Fuane e ora si guarda da dove si arriva eh vado ciao a tutti il Lago Torbido eccolo qui questo è il Rondinaio quello è il Giovo c'è il Lomo e noi siamo qui super aria eccolo la la è il lago vedi si vede anche il Lago Torbido si vede il Lago Lago Turchino e il Lago sono tutti secchi i laghi però il Giovo eccolo lì il Giovo si vede bene e qua sotto di me c'è Rondinaio e da giù le tre potenze tutti i dati i monti questo è il Monte Giovo eccolo qua tra poco ci si passa di sopra e si va ancora in giù laggiù c'è Castelnuovo e le Alpi il Giovo fuane eccolo qua e ragazzi eh ciao su Giovo non c'è una condiscendenza eh però devo guidare ciao a tutti eccolo là 272 702 siamo qui su Rondinaio Giovo c'è il Lomo laggiù c'è la Pana di Corfino e stiamo andando su e ora io cerco di andare verso Castelnuovo e la vela lì è tormentata comunque si va verso la Pana di Corfino che eccola la Castelnuovo lì a due passi e ora secondo com'è si tenta l'attraversata della fuane ma è un po' casino ora vado verso la Pana di Corfino eccola la intanto andiamo per il là eccoci siamo alla Pana di Corfino eccola lì lì è massa di sasso rosso sotto di me e là abbiamo Corfino guardate sono qui alla Pana di Corfino a 1.900 la vera eccola qua sta volando e diciamo che sto arrivato alla Pana di Corfino e ovare e c'è poco da dire e ora giro e andrò a tirare tutte cose guardate davanti a me eccola la clamorosa Pana di Corfino eccola lì guardate bellezza solo noi le prime telecamere al mondo che riprendono la Pana di Corfino lassù c'è San Pellegrino in Alpe e via e noi ora qui sulla costa della Pana si gira e si va verso diciamo Ponte Cosi che eccolo là vedete Ponte Cosi là c'è Castelnuovo e laggiù in fondo c'è Ponte Cosi ma ora vedi 1.900 e si sta andando su perciò sai che faccio? Gira questa si gira questa termichetta qui piccina piccina dai si va a vedere se ci porta lassù in cima alla Pana ormai siamo un ballo e si balla eccola lì la Pana di Corfino oh sono venuto dalle Pizzorne eh poi si vedrà eccoci ora l'abbiamo sotto eh lì c'è Corfino eccolo là Corfino e qui siamo sopra la Pana di Corfino hai capito si viene dalle Pizzorne e abbiamo fatto un giretto qui sopra la Pana di Corfino guardate qua dove sono la quota aspetta levo la macchina fotografica sono a 2.188 e qui siamo a 17 gradi eccolo la ecco la Pana di Corfino eccolo lì qui c'è la mira che si sbatacchia un po' e comunque alla Pana di Corfino si sono arrivati eccola lì i figli abbracci eh l'ho ripreso era cascato meno male l'ho legato se no era era andato in fondo ecco questa è la Pana di Corfino e noi siamo qua capito eccoci a termicaria sulla Pana di Corfino siamo a 2.385 eccolo qua e siamo sulla Pana di Corfino ora discendenza guardate bellezza le discendenze comunque giro e si va ad atterrare la Ponte Cosi passo sopra Corfino eccolo qua e laggiù come vedete Castelnuovo Ponte Cosi e qui ci sarebbe la strada per l'Aquane ora si guarda che succede comunque siamo qui sopra Corfino e rieccolo si ritermica si ritermica si ritermica 2003 e via si riva su si riva su e l'eccola lì siamo siamo la Pana di Corfino e siamo arrivati fino ora giro verso Ponte Cosi guardate e la si potrebbe andare verso la Pana ora eccoci e ci siamo guarda davanti a noi Ponte Cosi eccolo lì il lago di Ponte Cosi Castelnuovo Garfagnana io sono ancora aspetta ve lo dico sono ancora a 1.600 è inutile andare verso la Pana perché prima di tutto non ci arrivo e poi c'è vento da ovest e non so come va a finire nel sottoventi lì se vedete c'è il lago di Valli capito? e qua noi si cerca da andare lì a Ponte Cosi capito? il cielo è magnificamente stupendo e noi abbiamo oggi il cielo che si trova laggiù come vedete c'è il zumbra, il tambura tutte le afuane con le lì davanti a me guardate che spettacolo e ora si va lì nell'atterraggio di San Pellegrino e giù a Ponte Cosi